Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo un'altra anticipazione non ancora ufficiale per la stagione 2023-2024, la prima maglia dell'Atletico Madrid in edizione Player. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player.